benvenuti in questo nuovo video svuota la spesa finalmente finalmente eccoci di nuovo qui con la mia mamma questo è il primo svuota la spesa del 2020 mamma augure ecco quindi iniziamo subito con una marea di cose proprio mia madre ha preso tante chicche belle offerte quindi vediamo subito di che cosa si tratta iniziando dai direi con un negozio che praticamente non c'è in tutti i paesi ma mi serviva un piatto nero per fare le foto dei piatti perché lo sfondo nero risaltano meglio i cibi e questo nello specifico addirittura per quanto è grande è adatto per la pizza e la cosa bella di questi piatti è che si possono mettere in lavastoviglie vabbè come tutti questo è stato inteso però possono stare nel microonde e sono resistenti fino a 110 gradi quindi è ottimale sì e il prezzo è 3 euro e 20 ciascuno io l'ho preso solo nero perché mi serviva solamente nero invece mia madre l'ha preso anche in bianco ora mia madre vero ma si vuole fare il set si da sei quindi prenderà altri quattro due due neri e due bianchi e questa è la prima cosa che gli ospiti sì e poi per servire la pizza sono ideali anche per i buffet belli belli anche un bel materiale si molto infatti mazza esatto belli belli poi volevo farti vedere un regalo che ho fatto a mia sorella per natale e che a lei è piaciuto moltissimo e sto parlando di una palette quindi make a pare udite udite ed è questa io già la stavo aprendo perché volevo vedere già gli ombretti e si tratta della twilight vi dico già che la trovate su amazon ti lascio il link diretto qui giù nell'info box e nel commento in primo piano se vorrai qualora acquistarla questo è il range di colori guarda che meraviglia è completa di tutto mia sorella ci sta facendo tantissimi trucchi c'è anche il nero che non si trova sempre dappertutto ci sono molti shimmer molti brillanti e tanti opachi comunque ora facciamo gli swatch mi sporco un pochino la mano e il braccio come fanno le makeup artist per fare capire un pochino alla situazione allora iniziamo da desert sand li metto tutti in fila e poi ti faccio vedere sono pigmentati al massimo ah ma si usa così hai capito questo dorato mi madre non parla più dice che cosa sta facendo mia figlia e che bello questo quid no oud questo qua bellissimo questo qua celestial poi sono molto scriventi c'è anche un bianco opaco è un bianco che è un panna più che altro non si vedono magari non rendono in videocamera videocamera né telefono però anche questo è bello questo secondo me va bene anche come come fard questo rosso qua e voilà questa è tutta la gamma di ombretti e mia sorella veramente è soddisfatta anche perché devi calcolare che lei ha una carnagione più scura della mia e castana diciamo che è simile alla ragazza in foto in copertina e appena ho visto questa palette su amazon sul sito non ci ho pensato due volte e l'ho acquistata passiamo ad acqua e sapone solo acqua e sapone oggi sono canterina ti ricordo che io ho un secondo canale youtube che si chiama irex in the wonderland in cui mi trucco e faccio vedere dei make up anche particolari ed adatti per il carnevale dato che si sta avvicinando questa pesta che mia madre ama tanto e il 28 allora mi sto intanto io mi stucco mamma mi passi lo scontrino io qua sono a casa mia ovviamente me levo allora totale complessivo 22 euro e 09 da acqua da acqua e sapone domani piove mamma ti do questa notizia anche se c'è un vento tremendo secondo me finisce questo è per la lavastoviglie quanto mamma allora vediamo aspetta perché finisce 2 euro e 90 perché finisce sempre l'asio diciamo sempre la poi intimo venus 60 centesimi due ne ha presi geomarre viso questa è una crema idratante con certificazione biologica del al 63 per cento di aloe vera k h7 potevano chiamarlo in un altro modo sgrassatore perfetto questo già l'hai provato mamma o è la prima volta che lo compro facile del risciacquare questo mamma sì 2 euro e 50 questo lo utilizzo anch'io ed è per i mobili lucido veloce 1 euro e 40 il bio presto per lavare a mano rimozione delle macchie 2 euro 10 dash io aspettavo quello alla lavanda c'erano solamente le classiche quindi mia madre all'interno 36 e 4 euro 69 centesimi però d'acqua e sapone veramente poco poco pochissimo veramente sono economiche rispetto agli altri supermercati diciamo gli altri posti miglior gatto sterilizzato per pante un euro già presentato e 10 allora e questo sia croccanti prelibatezza con delicato pollo apporto calorico bilanciato salute dell'apparato urinario quanto mamma 1 euro 10 ne ha presi due che l'ho provato anch'io e mi sono trovata veramente benissimo il colgate max white al carbone questo è nuovo però ti posso dire che io già al secondo utilizzo vedo i denti 2 euro e 40 adesso passiamo a sisa per un prezzo totale di 23 euro e 32 centesimi ecco qui sono due cosina i cornetti classici della mulino bianco quanti pacchi ma tre pacchi quanto ciascuno al prezzo mia madre si sta mettendo si è messa agli occhiali è tornata anche quest'anno 2 euro e 49 ciascuno tre pacchi perfetto a mamma mi passi anche quelli al cioccolato allora abbiamo i sicorriso scotti i biscotti senza lattosio che già ti avevo mostrato in qualche video su della spesa di tempo fa e questo è senza olio di palma senza niente questi sono quelli semplici mentre questi sono con il cioccolato senza lattosio sì non l'ho dato sono ottimi io ho assaggiato quelli poi di risa questi si faccio molto perfetto al prezzo di 2 euro e 99 centesimi l'uno quanti pacchi 3 3 3 di ognuno 2 di al cioccolato e uno di frullino ok birra einigen 2 euro mia madre nonostante sia l'anno nuovo sono recidiva no è veloce sarà che lo scontrino è corto ora vediamo ora vediamo ora vediamo tra un pochettino speriamo di riuscirci milk il yogurt 1 euro e 99 poi guarda che meraviglia mia madre ha il pollice verde quando vede queste piantine proprio si innamora ma a me pure piacciono tantissimo solo che io non le so mantenere non le so curare ti devi figurare che mio padre mi ha regalato per natale una come si chiamava la stella di natale la stella di natale piccola papà invece a me ha regalato quella gigante se la vogliono vedere è ancora in vita esatto è magnifica comunque è veramente fantastica guarda che bel colore che ha il rosso già mia madre ci ha messo anche il cosetto quante? 3 euro e 99 bella è un tipo di rosa e ho visto la pubblicità della camomilla con melatonina siccome io ultimamente arrivo nel letto e mi invadono i pensieri e penso talmente tanto che il mio cervello va in fumo e non dormo non riesco ad addormentarmi quindi ho preso questa qua con melatonina sperando che la cosa migliori vabbè due giorni che non dormo però e ha già nel risento e questo è per addormentarsi più in fretta camomilla più un milligrammo di melatonina questa ed è la nuova proprio quanto mamma? 3 euro e 19 cavolo però se ne vale la pena chi se ne prego e tu lo sai cos'è la melatonina? si c'è scritto qua è una sostanza naturalmente presente nel nostro organismo che contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno da MD invece mia madre ha speso 68 euro e 50 centesimi ma c'è il motivo? una dica perché ha speso tanto? perché di solito da MD si spende molto di meno vero? si certo ma c'è il motivo? ma ci sono ben due motivi il primo te lo faccio vedere immediatamente questo è prima lo scontrino e qui c'è il primo motivo voilà meraviglia allora mia madre serviva un nuovo frullatore perché quello che aveva si è rotto si è rotto il contenitore di plastica invece questo qua che ora andremo ad aprire insieme lo andremo a vedere proprio nel dettaglio prima vediamo il prezzo 22 euro 22 euro cioè niente te lo regalano e questa è già la prima cosa poi guarda che magnifica torta 7 veli c'è nell'immagine complimenti allora selettore 5 livelli di velocità quindi già è ottimo in dotazione ganci da impasto e fruste in acciaio inox poi ciotola da 2,5 litri con funzione turbo quindi la puoi aumentare di velocità a me servirà pure per fare i dolci perché mia madre di dolci li mangia però li preparo io è 2 anni di garanzia potenza 400 watt voltaggio 220-240 perfetto lo possiamo aprire sperando che non cada tutto a terra e che non succeda un disastro che bello allora c'è il libretto allora queste sono le fruste che questi poi lavoreranno per montare certo ora lo assembliamo così capiamo sì questa è la parte superiore e qui c'è la velocità qui c'è la velocità turbo da 1 abbiamo detto 5 e poi qua c'è la ciotola comunque mai fatto un affare eh 22 euro per 22 euro questi non si trovano a questo prezzo allora ora magari poi dopo ti metto una clip qua di lato in funzione così capisci anche com'è perché sennò ok bello grande sì e questo è estraibile ovviamente voilà non trovavo il punto e mi piace molto devo dire anche come estetica sì sì è piccolino e pratico qua sta dicendo i ganci per imposto e dice i minuti addirittura per quanti minuti bisogna lavorare per esempio l'imposto per waffle pancake circa 750 grammi per 3 minuti le salse le salse e le creme e le zuppe per 3 minuti mamma la maionese per 3 minuti il purè di patate pure idem con patate montare la crema 5 minuti gli albumi 3 minuti ripieno per tolte 3 minuti continuando con la spesa abbiamo besciamello e ora l'ho presa in castagna mia madre perché non piaccia proprio non te lo dico subito 99 centesimi mi sono sbagliata mi sono sbagliata poi di questo bocconcini di commanzo non è per noi miib senza coloranti conservanti zuccheri aggiunti vabbè chicken queste quanti non se ne mangerebbe non nemmai ma infatti non sono per lui sono per altri gatti esatto non sterilizzati e sono 9 9 confezioni 8 confezioni 8 scatolette a 0 39 centesimi poi il formaggio massdammer quello con i buchi l'ho trovato massdammer 1,59 questo l'ho preso pure io ancora lo davo a provare mia madre dice che è buono ma io siccome non amo gli yogurt tu direi Irene perché l'hai comprata no? perché fa bene so che fa bene e questo io ho preso questo ed è alla vena e noci e favorisce l'equilibrio della flora intestinale questo è il discorso questo qua niente ed è della marca Vivo Meglio come confezione ho preso questo quindi due di questo ottimo ma già l'ho provata questa veloce sì e poi questo qua ai cereali ai cereali bifidus no bifidobacterium e bb12 è ottimo è ottimo è molto morbido molto cremoso di champignon 1,79 euro i gianduiotti che mia sorella salitava come se non ci fanno mai 1,49 euro due gianduiotti e un altro tipo di infatti lo stavo prendendo selection sono della stessa marca pasticceria del centro e questo con il ripieno di crema e nocciola sì sì 1,49 euro le banane banane la buone 1,70 euro come un tic cioè cos'era nanana 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 hanno sentito sottofondo la tua voce si trocolone piccante 1,99 euro ed in ultimo il pezzo l'altro pezzo forte che mia madre ha comprato ti avevo detto che erano due i pezzi forti se sei stato attento te lo ricorderai voilà no vabbè ma che cosa è cosa è ora lo apriamo anche questo ovviamente allora è un lenzuolo un completo letto con il pan e poi la federa con la scritta in inglese che ora vediamo se riusciamo a capirci qualcosa in caso per ti scriverò la traduzione vabbè comunque è un completo letto con stampa digitale esatto con federa double fast pensa wow e ora infatti lo andiamo a vedere nel dettaglio sì siamo pro animale forza e no l'abbandonano anche molti abbandonano gli animali ora poi arriva l'estate si svegliano tutti quanti abbandonati l'abbandonano che devono andare in vacanza eh sì perché in vacanza l'animale non se lo possono mettere dietro allora ah questo stavo dicendo tu cosa mi chiamavi da panda mi chiamava panda da piccola perché perché avevi un viso tono beh è l'occhio dolce ci assomiglio la piccola si adesso no dovremmo giudicarlo fai giudicarlo allora senti cosa ti dicono qua no non lo so lo prenderanno per scemo puro cotone eh 100% si si sente con bel tessuto delle belle federe aaaaa loro dicono che è double la federa perché da una parte c'è il panda dall'altra parte ma c'è il bambù il cibo del panda si dall'altra parte c'è il bambù con la scritta allora vediamo la scritta alzala allora prima allora allora io ovviamente sparirò è normale allora questo è il panda e c'è ancora una scritta accanto allora io non sono diciamo ciccione eh sono soltanto ciccione soltanto fluffy dolce tipo un animaletto dolce e invece questo è il retro praticamente che lui è un panda giusto ci sei io sono un panda eh però io non solo mangio e torno tutto il giorno eh anche un animal diciamo sì o anche o anche sì esatto sentimenti dei sentimenti ma guarda che bello è troppo dolce e anche il beige un bel colore bello allora invece per il lenzuolo è beige normale mi so sì come è ha una tinta unita certo sì è normale beige tinta unita però è più fine posso dire così sì sì perché sennò sarebbe troppo pesante eh è sotto ah pure tutto beige perché pensavo c'era un po' di fantasia no no ma a me piace non ti posso dire mi piace sì 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 sono due le fedele hai visto? hai notato? sì 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 va bene non è un problema se lo prende mia sorella esatto ma certo pure loro però scusami ma adesso due fedele no no ho messo le immagini del matrimoniale una intelligentemente scusami scusami da questa immagine tu che cosa capisci so ora dimmi tu che è matrimoniale solo quello che capisci no invece è singolo completo letto singolo qua c'è scritto vabbè non è un problema eh vabbè però è bellissimo Elisa ci ha guadagnato un lenzuolo esatto si vede che serviva di più Elisa che a te a papà il video termina qui mia amante dice amen andate in pace no amen no però super eh speriamo di averti tenuto compagnia e ci vediamo presto con un nuovo video vuota la spesa mandi ciao 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 ciao